Un'opera ispirata dallo Spirito Santo, nasce ad Amaroni lo sportello di ascolto e servizio. Un'opera straordinaria, suggeritemi dallo Spirito Santo, è carico di fierezza spirituale e non solo, il parroco di Amaroni, Don Roberto Corapi. E non può essere diversamente, ieri nella cittadina del Miele è nato uno sportello di ascolto e servizio, collocato nella struttura parrocchiale Casa Maria. Lo sportello è figlio della volontà del sacerdote e della caritas parrocchiale. Oggi partiamo con l'apertura di uno sportello, di uno sportello molto importante a livello sociale nella comunità di Amaroni, ma non solo, per tutte quelle persone che hanno bisogno davvero di essere ascoltati. Lo sportello prende il nome di ascolto e servizio. Ascolto perché mi rendo conto che oggi l'ascolto non è promosso da nessuno, nessuno ascolta più, perché si va di fretta, si va di qua, di là, in una giornata piena di impegni. Quindi nessuno è disposto più ad ascoltare. Ascoltare le problematiche della gente, i disagi, i problemi giovanili. E poi, per quanto riguarda poi l'unico problema a livello soggettivo, io mi adopero per far arrivare professionisti, gente competente sui vari campi. Perché oggi davvero la solitudine, e mi sono reso conto che la solitudine, in modo particolare nelle nostre comunità, la solitudine ti porta a tanti disagi. Ad esempio ti porta all'alcolismo, ti porta alla droga, ti porta a rivolgerti poi ai maghi, ai fattucchieri. E questo non è bene, perché questa è una distruzione della vita come dono di Dio, perché la vita è un dono di Dio. E mi rendo conto sempre di più come al centro dobbiamo mettere l'uomo. Quindi ascolto e servizio. Il servizio che do alla comunità, ad ogni uomo che porta, che bussa proprio alla porta del nostro cuore. E ad ogni uomo che porta la sofferenza nel cuore, il disagio, la problematica. Ci sono tanti problemi, carissimi, che mi ascoltate da queste emittenti teleionio. Tanti sono le problematiche. Dobbiamo cercare, ecco, con le nostre competenze di risolverli al meglio. Io credo che a un sacerdote l'altro si apre. A differenza di tante altre persone, ad un sacerdote si aprono. Ecco, un sacerdote dà fiducia, dà amore. Io lo faccio proprio a Casa Maria, in questa bellissima struttura, nel giardino di Dio, proprio per essere fuori dagli occhi della gente. E proprio perché ogni uomo si sente libero per venire a consegnare la sofferenza e il dolore. Quindi per questo ascolto e servizio. Non soltanto con i buoni spese. Ci stiamo adoperando anche per i buoni spese, per le famiglie bisognose. E con la Caritas parrocchiale, ma in modo eccezionale con questo sportello. Tutti i martedì io sono qui a Casa Maria, dalle 15.30 alle 17.00. Qui a disposizione della comunità e di tutte quelle persone che vogliono venire qui a trovarmi. Che possa aiutare nel mio campo, a livello spirituale, ma anche a livello di disagi, di problematiche varie. Vi ripeto, dobbiamo davvero condividere la sofferenza dell'altro. La sofferenza che ogni uomo porta nel cuore. E chi la condivide? Un buon padre e un buon sacerdote. Che deve essere il padre della comunità, il padre di tutti. Quindi questo sportello ha l'obiettivo principale e primario di mettere l'uomo al centro come dono di Dio. Come soggetto e non come oggetto. A mettere tutte quelle persone che hanno bisogno di altri servizi, di servizi di ogni genere. Perché poi vedete anche la solitudine, volevo dire questo, ti porta a chi magari si trova bene economicamente al gioco d'azzardo. Hai gratta e vinci, conosco tanta gente che gratta, 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 ma rimane poi nella solitudine più sfrenata. Quindi io sono qui con lo sportello che offre la nostra comunità parrocchiale. Uno sportello a livello sociale per essere vicino ad ogni uomo e ad ogni donna che bussa alla porta del mio cuore, innanzitutto del mio cuore sacerdotale, ma alla porta qui di Casa Maria. Tutti i martedì 15.30.17. Vi aspetto.